contro il fulham 2 a 0 ancora tammy gertrude spu assegnato espulso ha fatto tutto lui gettore bravo senti contro la stone villa per forza devo far giocare super sub devono riposare mamma mia che stoncata 3 a 0 dalla stone villa brutto brutti super sub non convincono per noi per molto esagerato da partitino comodino ma voleva far riposare a tutti i costi la squadra titolare però sono belli caldi contro il leone in casa allora cooper ike kim minjai i bagnets gertrude fuori milinkovic entomatazzo missa wisanto abraham blanco vai il leone c'ha lunin target garzia nunez arons odscan estacchio fivre mbeum mir popescu c'è fosse uno che conosco ma che poi lo puoi vedere quanto c'hanno mo per curiosità voglite quanto c'hanno popescu 83 mir 83 mbeum 81 estacchio 82 fivre 84 odscan 81 target 80 garzia 84 nunez 83 aros 81 lunin 81 oh squadraccia derune in panca plymouth lione andata di semifinale di europa porco dio liga ok i bagnets missawi nel mucchione sbuca willock sul fondo allora palla al nostro numero 10 missawi salta ancora una volta l'uomo imprendibile missawi una serie di finte è pazzo completamente serve santo massimino blanco lunin ora max arons in seguito dal santo che se la va a riprendere applausi per lui willock esce molto bene il plymouth e attenzione perché questo è una prateria è una prateria è una prateria blanco per missawi calda la merda 1 a 0 bader missawi un contropiede fotonico bader missawi sesto gol in europa league e come la palla lo squalo allora matazzo palla lunga per tammi abram la nostra besta il nostro king tammi abram il tammista il tammista spacca la traversa il tammista si riparte con il secondo tempo la baglia dei pirati dino braccia incrociate asserva attentamente in piedi la propria squadra i kei i bagnets matazzo a peper blanco vuole palla per missawi che continua a fare finezze tammi bellissima dentro che azione del plymouth joe willock 2 a 0 che azione del plymouth calcio teistico calcio inglese calcio delle 5 di pomeriggio boom che scambietto da tammi abram e joe willock matazzo tammi abram apre per ikei a campo santo massimino va vale finta il santo ikei tammi abram forse posizione regolare no è tutto regolare joe willock lunin sbaglia popescu le finte del santo missawi missawi mamma mia dove gliel'aveva messa sta esagerando di no comorino squasistizzito dalle finte del tunisino perché qui potrebbe essere 3 a 0 e chiudere anche la qualificazione invece sul 2 a 0 lascia ancora tutto aperto lezioso missawi lezioso 2 a 0 plymouth semplice vittoria contro il lione contro lo united senti il campionato lo finiamo a simulare sti cazzi mezzo che faccio turn over tanto dallo united c'è più comunque il cazzo 4 pippi a ninne 4 passarelle a dormire lo united capito lukas leiva far fenomeno in serie a pensa madic oh ma questo è salito ancora 87 a zonotoi e ce l'ha un panca ma mettilo di dolare o lione plymouth ritorno di semifinale di europa league il plymouth con un sogno quello di andare in finale di europa league si parte da un 2 a 0 secco in casa ikei su di lui a zonotoi al pressing beumo palla dentro cooper subito un miracolo allora può ripartire missawi per vie centrali prova a scavalcare tutti è pazzo missawi missawi è folle missawi è folle alla wea porco dio di wea c'è solo una cosa estachio palla per popesco il lione è in grande sprint in casa target estachio la mette dentro per beumo 1 a 0 lione attenzione attenzione forse qui il plymouth pensava di passeggiare ma stiamo stiamo giocando comunque una semifinale europea i bagnets attenzione perché a zonotoi si tocca si tocca tutto sembra essersi fatto male non sembra in grado di rialzarsi willock ah ma non è a zonotoi è missawi porco dio a zonotoi willock lunin eh ma dino comodino lo deve tirare fuori perché continua a toccarsi la pianta del piede allora a zonotoi prende il suo posto entra santo massimino target popesco estachio ancora target le finte palla per popesco la può va mettere dentro cooper salva la baracca arons ancora imbeumo numero di imbeumo bella palla dentro per l'ingren estachio 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 ancora popesco bella palla per l'ingren feiker non chiude 2 a 0 lione che sta succedendo un neuro goal di faivre e il lione ora è pazzo odscan l'ingren faivre popesco attenzione la palla filtra 3 a 0 lione a cosa stiamo assistendo dino comodino non sa che fare fuori milinkovic dentro matazzo fuori uno spento blanco dentro summerville il santo l'unico che ci sta provando azzonodoi azzonodoi a spazio lunin willock il santo è la sua mattonella è la sua mattonella è la sua mattonella santo massimino è la sua mattonella gertrude su di lui attenzione estachio la palla filtra attenzione che sta succedendo difesa completamente a farfalle del plimuf santo massimino la tiene conto faivre la può mettere dentro è morbida willock ma che succede nuñez confusione tempi supplementari derun attenzione cade uere finisce il primo tempo supplementare popescu tiene bene la linea attenzione popescu perché fa tutto perfettamente martin derun cade uere no è quell'azione cooper rafamir arons attenzione il plimuf non è messo bene popescu faker che cazzo fai porco dio faker di merda faker di merda ma che cazzo fa l'ennesimo errore di faker i francesi ballano i francesi ballano ma che ha fatto qui faker ma non c'è più tempo il lione fa anche possesso palla eh non gliela puoi manco togliere e fischia è finita è fuori dall'europa league in semifinale dopo un vantaggio di 2 a 0 un errore clamoroso da parte di faker all'ultimo e ora bisogna guantare il quarto posto perché altrimenti non ci sarà champions league quattro settimane finisce qui la stagione di missawi porco dio ho trollato ho fatto giocare i super sub è finita qui siamo quinti a meno due dal to ah sconto diretto contro il tottenham tocca giocarla plimof tottenham vale più della finale di di europa league probabilmente tottenham con simon reguillon kilman stones tanganga batta oiberg de bruine mané kane kulusevski sfida tra allenatori italiani comodino contro conte ci si gioca l'accesso in champions league se la riprende con forza e furia il santo a campo vai blanco 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 simon il tamista che non si vede da tante partite steso willock bella palla per azzono doi miracolo del portiere per una ribattura ancora una ai simon tammi anche lui si tocca la gamba un altro brutto un'altra contusione il santo il tacchetto per tammi ma si regge in piedi per sbaglio milinkovic blanco tammi abram un esimon un esimon succhiami le palle un esimon di merda e poi è fuori gioco ma che cazzo dice l'arbitro ma che fuori gioco è dentro il caricatore esce tammi abram sconsolato non basta questo 0-0 i ragazzi di comodino la baglia canta la baglia esulta ma c'è bisogno di un gol willock il santo caricatore azzono doi riscatta sta stagione brutta pippa blanco matazzo ancora marcolino royce willock il santo la palla è per marcolino una esimon kulusevski cambia passo hikey non riesce a stargli dietro oiberg ora deve rischiare neanche di prendere il gol perché lì sarebbe veramente finita rischiare neanche di prendere il gol perché lì sarebbe veramente finita ventancur ventancur rodrigo ventancur quinta rete in 16 partite ed è sempre lui la maledizione di marcolino royce ventancur willock 10 minuti da giocare il caricatore marcolino royce bella bella palla di marcolino bella palla di marcolino il caricatore battila porco dio si e chi sei maratona ma batte un'affanculo a ventancur ma magari te piano sotto un treno devono saltare delle teste tre mesi da mi abbram fuori si è rotto il dito ah ma lo sai che se questo è un altro scontro di tetto questa si ma mi frega un cazzo se perdo questa sei sesto e sei fuori tipo da tutto perché viola è il sesto no forse che sei in testa dei sere sei qualificato invece quell'altro di fare qualificazione africa grazie dei due siamo la veloce i don't care crystal palace bella 2 a 2 se gode siamo quinti e ora male male squadra da rifondare missawi torna senza missawi sta squadra non gira proprio è una busta di fare allora torna pedo moreira tutte ste pippe che prenderanno tutto il volo ma ah ma arriva subito lui arriva subito Antoine Griezmann no